Ospiti dell'ultima puntata di Piazza Pulita condotta da Corrado Formigli troviamo Rosi Bindi, Gianfranco Fini, Roberto Giacchetti e anche Vittorio Sgarbi. Proprio quest'ultimo ha inasprito il dibattito su diversi temi trattati, da Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle passando per il ministro Maria Elena Boschi. A Piazza Pulita il critico d'arte ha infatti detto la sua sulla riforma costituzionale proposta dal ministro e si è scherato con il giurista italiano Gustavo Zagrebessi che dice no al referendum in programma a giugno. In un attimo sul web si è scatenata una polemica per la frase pronunciata nei confronti della Boschi giudicata da molti sessista e irrispettosa ma passata inosservata in trasmissione. A Piazza Pulita Vittorio Sgarbi ha detto sto con Zagrebessi non con la Boschi la preferisco peraltro. Cosa potrà mai essere quell'altro di cui ha accennato in diretta tv? Sappiamo bene che Maria Elena Boschi è stata e continua ad esserlo al centro dell'attenzione di molti tra cui anche il regista erotico Tinto Brass e giornali di gossip nonostante faccia di tutto per mantenere un basso profilo. Sul web hanno tuonato in effetti il commento di Sgarbi sulla Boschi è stato di un maschilismo schifoso oppure Piazza Pulita è riferimento sessista e di Sgarbi che ha fatto riferimento alla Boschi in un suo interesse al di là della politica.